Ciao a tutti, benvenuti nel mio 35esimo video unboxing, benvenuti sul canale Tina on the road, se è la prima volta che passate di qua io mi presento, sono Valentina e faccio questi video unboxing di Aliexpress, ma faccio anche altri video come vlog di viaggio, tag, challenge, varie cose e qui insieme c'è sempre mia mamma Nadia che parla anche lei. Ecco qua, saluta a tutti! Buongiorno, partiamo subito aprendo questi pacchetti, ne sono arrivati tanti tutti insieme stavolta, dopo tipo tre settimane di magra che non arrivava niente, dopo all'improvviso è arrivato tutto insieme, vero? Sempre colpa delle poste italiane, è preciso. Sì, andiamo ad aprire questo pacchetto, oh un sacchetto blu di velluto, ma che bello, non ho idea di cosa ci sia qua dentro, che carino, questo sacchetto è bellissimo, non era mai arrivato così, è carinissimo. Allora, qui dentro non c'è altro, ve lo dico già, e vediamo, apriamo questo sacchetto stupendo, e dentro c'è una collana, allora c'è una catena così, che non credo sia d'acciaio, penso proprio che sia un omaggio, e qui abbiamo il prodotto che ha comprato mia mamma, vediamo, c'è pure il cordino, quindi non capisco quella catena lì, non l'hai comprata perché sono sicura che non è d'acciaio, ha messo il cordino, non doveva esserci per forza, l'ha messo loro così? No, ne uno e nell'altro ci doveva essere, era solo il ciondolo. Ecco, mi ha comprato questo ciondolo, con questa tartaruga, penso in metallo, placato argento, come sempre, con questa pietra che è magnifica, avata d'acqua in pratica. Si chiama così? Sì. Ma non ho mai sentito parlare di questa pietra. Sì, sì, l'ho presa apposta perché anche io non l'ho mai vista. Guardate, è anche trasparente, adesso come faccio sempre io con il flash del cellulare, vi farò vedere più nel dettaglio questa pietra che è veramente un pezzo magnifico. Adoro anch'io questo ciondolo, io non sto comprando ciondoli con le pietre perché io li comprerei solo montati su 100% argento o acciaio. Sei costosa. Però fra un po' anch'io mi farò prendere la mano da queste pietre. Bellissimo, guardate, dietro è così, qui al suo gancetto. Guardate ragazzi che roba! Guardate se... non so cosa sembra, tu cosa diresti che sembra? Eh, da qui non è che la vedo molto bene. A me sembrano degli alberi tipo visti dall'alto o delle alghe nel mare. Guardate quanto è bella questa pietra. Agata acquatica, esatto. Bellissima. Questo ciondolo a forma di tartaruga con l'agata è costata 1,62 euro. Ecco qui apriamo questo, vediamo un po' cosa esce, non ne ho idea. Sono arrivati talmente tanti pacchetti insieme che non ho neanche bene capito cosa contengono. Vediamo un po'. Questo sembra un anello e non sarà mio di sicuro. Ecco qua, è un anello di un modello che avevi già comprato, sempre portabile a misura. Sotto potete metterlo alla vostra misura che volete. Ed è così con questa pietra blu, che è un lapislazuli. Si vede benissimo il fatto che è un lapislazuli perché ha questi puntini dorati, che è la pirite, vero? La pirite, si. L'oro degli sciocchi. Comunque per un euro neanche, non so quanti euro. Eh, trovare un lapislazuli non è una cosa... Vedete questi puntini dorati? Fa capire che il lapislazuli è naturale. È una pietra fantastica perché è un blu molto forte, bello potente. Nella realtà è un blu più sul viola, ma qui in video si vede proprio blu blu. Guardate quanto è bello. Questo anello con la pietra lapislazuli è costato un euro e 61. Apriamo questo. Dai, vediamo un po'. Vediamo bene cosa esce da qua. Voilà, è un anello e qui, come vedo, c'è un omaggio. I am a gift, c'è anche scritto. Sono questi orecchini con queste perle piccole, 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 che darò a mia mamma perché a me faranno allergia di sicuro e hanno i gommini così, in silicone. Vediamo cos'altro usciva da qua, il prodotto che abbiamo comprato, che è di Nadia di sicuro. Vediamo un po'. È questo anello. Ah, sì. Agata gialla. Siamo sicuri che è pietra? Aspetta che la guardo bene. No, perché non è resina, perché sennò io lo mando indietro. Wow, guardate la montatura di questo anello, com'è spettacolare, con tutte queste... sì che non saranno pietre, sono dei brillantini, no? Sì, saranno tipo... Com'è che si chiama la pietra, questa qua, tipo questi brillantini, quella... tipo i matite, però quell'altra. No, adesso mi sfugge il nome di questa, non mi ricordo proprio. Questa anella ha una montatura stupenda, sotto non è portabile a misura ed è una misura 6, direi. sì, è una 6, 7. Ecco, io ho controllato, secondo me, questo cabochon che c'è all'interno, non è in pietra, ma secondo me è in resina, perché si vede da sotto, guardate, vedete quelle forme che fa la superficie? Secondo me quelle forme così le fa la resina, non una pietra levigata, una pietra levigata sotto sarebbe piatta e gli angoli, insomma, i bordi non sarebbero così levigati e tondi. Questo anello è costato 2,15 euro, per 2,15 euro mi sarei aspettata una pietra magari vera, invece questa è plastica, o resina, insomma. Ecco qui, adesso apriamo questo pacchetto. Vediamo, ancora due anelli di Nadia, ma è tutto suo, sono tutti anelli suoi, io non ho parole. Vediamo un po'. Ma io li prendo solo esclusivamente per la pietra, si li porto anche, però solo per le pietre. Abbiamo questo qui, con questo che dovrebbe essere un turchese, ma è un turchese vero? Dovrebbe essere un turchese verde, più chiaro di tutti che c'è. È chiarissimo ed è stupendo, quasi quasi lo voglio io, perché il turchese così chiaro io non l'avevo mai visto, o che è una ulite colorata, ma secondo me, a me sembra un turchese, ha le sue venature begioline chiare, è bellissimo e sotto è portabile a misura, potete schiacciarlo e metterlo alla vostra misura, così. Molto bello, non ha niente che non va, è stupendo questo anello. Vediamo cosa esce qui, un altro anello e questo è un diaspro. Ecco questo altro anello con questa pietra che è? Un diaspro rosso. Ok, vedete, si vede benissimo che è una pietra naturale, perché qui non è perfettamente liscio come potrebbe essere la resina, ha la sua venatura così, sul nero, anche sotto si può vedere che è una pietra naturale, vedete che non è perfetta, la misura si si può mettere a misura come lo volete voi. Molto bello. Questo anello con il diaspro rosso è costato 1,87, e anche questo con il turchese chiaro 1,87. Ok, apriamo questo pacchetto, qui si capisce che c'è qualcosa di mio e già come dico così avrete capito che cosa può essere. Nell'altro video sono rimasta trollata con questo prodotto, avrete visto. Chi ha visto il video precedente, il video 34, capirà perché dico così. Vediamo un po' cosa esce, comincia intravedersi, voilà, era questo che aspettavo io, non quello che è arrivato l'altra volta. Adesso vi faccio vedere, è una cover rigida per il telefono ZTE Nubia N1, vediamola un po', è bella, non pensavo fosse satinata, pensavo fosse un po' più lucida, però non so se riuscite a vedere, non è una semplice cover in plastica rossa, ma è metallizzata e satinata, vedete un pochino gli effetti di luce che fa? Ok, togliamo la plastichina sotto, dentro è così, al tatto è morbida come se fosse velluto, qua è fatta così perché non è morbida, vedete che è plastica rigida, allora gli hanno fatto questi taglietti per inserire meglio il telefono. Più avanti vi faccio vedere il telefono con sopra questa cover, così vedete come sta. Comunque copre tutti i lati, come potete vedere, grazie a questi taglietti sono riusciti a permettere a una cover rigida di coprire tutti i lati. Io l'ho presa metallizzata, di questo colore rosso, perché lo ZTE Nubi N1 ha molti dettagli, come vedete qui intorno alla fotocamera, rossi e quindi sicuramente starà benissimo su, vi metto qui il video di come la vedrete indossata sul telefono. Ciao! Questa cover che è davvero bellissima sul telefono è costata 3,32 euro, un po' di più di quelle che prendo di solito. E adesso apriamo questo pacchetto, bello cicciotto e morbido, è una cosa mia, però siccome che ne ho un altro di questo oggetto non so questo di che colore è, di che modello è. Apriamolo, vediamo un po'. Sono troppo felice! vediamo, sì, questo è quello un po' meno bello e Nadia non sarà d'accordo sul colore che ho scelto perché, però, sì, sì grigio, però ne ho prese, allora questa è una sciarpa, adesso ve la faccio vedere bene, spero che il tessuto, uh, assolutamente sì ragazzi, andate nell'info box, troverete il link, comprate, comprate, comprate. Adesso vi dico anche il prezzo, questo è questa sciarpa, non so se è sintetica, potrebbe anche essere sintetica, ma è morbidissima, guardate, no, non voglio tagliare, forse riesco a estrarla così, ok, perché è anche confezionata bene, H&M, sì, tipo H&M, adesso vi dico anche le misure, è morbidissima, di sicuro è bella trasparentina, questa qua è una sciarpa prettamente primaverile, vedete? certo, è trasparente, ed è morbidissima, probabilmente sarà sintetica, non lo so? no, penso che no, o shantum o viscosa, perché dovrebbe essersi sintetica, ok, la apro bene, guardo se ha buchi difetti e vi dico, ecco qua, vi metto anche una foto di me che indosso questa sciarpa, allora questa è lunga, 1,76, invece la parte più corta è 64 cm, ok, non è enorme, è proprio una sciarpina primaverile, ma è fantastica, c'è in tantissimi colori, adesso deciderò se comprarla anche di un altro colore, il materiale è molto bello, si sente la cerniera così è meglio, perché essendo così sottili, potreste tirare dei fili, guardate la trama, questo è il tipo di trama che adoro io, che non è plasticosa. questa sciarpa grigia è costata 1,12 euro, ecco qua ragazzi, questo video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto è importante che me lo facciate sapere mettendomi un like, così il mio canale potrà continuare a crescere, ma è importantissimo anche che vi iscriviate, cliccate sulla campanella, così non vi perderete mai i miei prossimi video. se vi va di restare in mia compagnia, cliccate su uno di questi video che compaiono qui adesso e noi ci vediamo al prossimo video, un bacio grandissimo da me, a risentirci a tutti, ciao!